Musica Pronta mobilitazione delle istituzioni locali per sostenere le imprese messe in ginocchio dal coronavirus. Moretti, subito una verifica urgente delle risorse locali disponibili. Il BIM, noi ci siamo. Dopo l'appello dei sindaci di Valchiavenna e tiranese, confronto tra regione e canton grigioni per garantire tutela ai frontalieri, Caira si impegna a vigilare sulle aziende al confine e si misura la temperatura. Il consorzio turistico della Valchiavenna studia nuove strategie per rilanciare l'offerta di accoglienza del territorio dopo l'emergenza. Si punta sul mercato di prossimità e su proposte di soggiorno breve. Banca Popolare di Sondrio dona tablet alle case di riposo per favorire il contatto visivo tra gli ospiti e i loro familiari. Iniziativa sociale spiega BPS di vicinanza agli anziani. L'affetto dei cari passa dallo schermo. Buonasera e ben trovati a tutti i telespettatori di Unica. Le istituzioni locali si mobilitano a sostegno del sistema economico locale. Avviata subito una ricognizione di tutte le risorse disponibili per rispondere in tempi rapidi al bisogno di liquidità delle aziende. Raccolto l'appello di Martinalli. Coronavirus dall'emergenza sanitaria a quella economica. Le istituzioni si interrogano sulle misure da attuare in aiuto del tessuto imprenditoriale per contrastare i rischi di una crisi sociale e fanno la conta delle risorse finanziarie disponibili. Se ne è discusso nella riunione urgente del Comitato di coordinamento dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale presenti per gli enti partner l'assessore regionale Massimo Sertori, il presidente della provincia Elio Moretti, il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini e la presidente della Camera di Commercio Loretta Credano, invitato anche Alan Vaninetti, presidente del BIM dell'Adda. Molte imprese stanno già affrontando grandi difficoltà economiche e occupazionali, artigiani, albergatori, impiantisti, commercianti, industriali, agricoltori, ma anche professionisti e lavoratori autonomi. Come aiutarle in tempi celeri? Le istituzioni, comunica il presidente della provincia, si riservano di verificare nel più breve tempo possibile l'ammontare delle risorse economiche pubbliche locali, comunque limitate e complementari agli aiuti statali, che potrebbero essere messe in campo per una rapida e adeguata azione di supporto al sistema economico. Prima di qualsiasi iniziativa, dunque, via alla verifica delle effettive disponibilità economiche. Sarà un'esplorazione a 360 gradi, assicura Moretti, che coinvolgerà tutti i comparti possibili. Voglio credere che le istituzioni locali, assieme alla regione, conclude, possano ancora una volta essere concretamente al fianco di coloro che creano sviluppo e occupazione. L'emergenza si chiama liquidità. Sull'esigenza di intervenire nell'immediato per dare ossigeno, soprattutto alle micro e piccole imprese, in questi giorni si è espresso il manager e imprenditore Stefano Martinelli, proponendo di dare un prestito a tasso zero di 20.000 euro a tutte le aziende richiedenti e chiedendo al BIM di accollarsi gli interessi. Il BIM ha nella sua missione statutaria il contributo alla coesione sociale e allo sviluppo del territorio, dichiara il presidente Alan Vaninetti. Di certo non ci tiriamo indietro di fronte a questa emergenza. Noi ci siamo, come abbiamo sempre fatto, per rispondere alle esigenze del territorio. Vedi la viabilità. Occorre capire come meglio integrare una leva economica locale di sostegno all'economia con gli strumenti previsti dal governo di cui ancora non si conoscono modalità e tempi di erogazione. I nostri soci sono i comuni, insieme decideremo come agire, dichiara Vaninetti, senza dimenticare che le stesse amministrazioni locali si apprestano ad affrontare una situazione di ristrettezza derivante da minori entrate e conseguente rischio di riduzione di opere e servizi. Dati incoraggianti sull'emergenza coronavirus al Morelli di Sondalo, non è ancora il momento di abbassare la guardia, ma perlomeno si registra una tendenza positiva che ora solo il tempo potrà confermare. Nel silenzio di vie e piazze vuote risuona con maggiore intensità la sirena dell'ambulanza per un intervento di soccorso spesso rivolto a persone che hanno contratto il Covid-19. In strada i sanitari, pronti a prendersi cura dei malati, sull'uscio tante famiglie, inermi che da quel momento riverseranno le loro speranze di rivedere un padre, una madre, un fratello solo nella preghiera per colpa di un virus che anche in provincia di Sondrio ha distrutto tante e troppe famiglie. E nonostante l'attività delle ultime ore al Morelli di Sonda, l'ospedale Covid faccia intravedere uno spiraglio di luce, non si sa ancora quanto il tunnel che dobbiamo attraversare per liberarci da questo killer invisibile e silenzioso sia ancora a lungo. Purtroppo nelle ultime 24 ore a piangere la perdita di un proprio caro spirato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale dell'Alta Valle è un'altra famiglia valtellinese. Due le persone ricoverate, entrambe di sesso maschile, 11 pazienti dimessi. La lettura dei dati che attraverso ASST giungono dal Morelli insomma evidenzia una tendenza positiva che però deve essere ancora confermata nel tempo. Il reparto di degenza di sorveglianza, con 60 posti letto aperto al padiglione 4 che attualmente ospita 16 degenti, ieri ne ha accolti altri tre dimessi dai reparti Covid-19 in buone condizioni di salute ma ancora positivi al virus. Questi pazienti hanno trovato ospitalità e assistenza da parte di un personale che non riusciremo mai a ringraziare, nei locali attrezzati ad hoc per la quarantena, nell'ospedale punto di riferimento per la cura di chi ha contratto la pandemia. Sul fronte dei tamponi ASST ha effettuato dall'inizio dell'emergenza quasi 2500 accertamenti, un numero significativo grazie all'attività svolta negli ambulatori mobili dove il tampone si effettua senza scendere dall'auto. Sul totale 962 sono risultati positivi, un dato più alto rispetto al numero dei contagiati in quanto il tampone viene eseguito una sola volta su chi risulta negativo ma anche fino a cinque volte sulla stessa persona che invece purtroppo ha contratto il virus. Numeri che si discostano da quelli forniti da TS della Montagna, spiega oggi il direttore generale Lorella Cecconami, che invece fanno riferimento esclusivamente alle persone e non al numero di tamponi eseguiti, accertamenti che possono essere effettuati più volte sullo stesso paziente. Inoltre, conclude Cecconami, i dati si riferiscono alla diffusione del coronavirus sul territorio e non considerano i contagiati delle case di riposo inseriti in una casistica parte ai quali solo in questi ultimi giorni è stato effettuato il tampone. Oggi la Regione, tramite i volontari di protezione civile, ha consegnato alle province la seconda tranche di mascherine, in tutto 3 milioni e 600 mila, di cui 200 mila, riferisce l'assessore Foroni, donate dall'Associazione dei Comuni. 60 mila pezzi assegnati alla provincia di Sondrio, che annuncia il presidente Moretti, da domani inizierà a distribuirli ai comuni affinché questi li diano gratuitamente ai cittadini che ne hanno più necessità, secondo criteri più adatti ad ogni singola realtà locale. Il riparto avviene in proporzione al numero degli abitanti. Moretti ringrazia i volontari di protezione civile e il comandante Simonini. Il canton Grigioni ha una diffusione del coronavirus simile a quella della provincia di Sondrio, 730 casi accertati finora, anche se un numero minore di decessi. Ma nelle zone di confine l'incidenza aumenta in Valposchiavo, ad oggi ben 67 casi su meno di 5 mila abitanti. Eppure lì molte attività vanno avanti. Di qui l'iniziativa della regione presso le autorità di Coira per tutelare la salute dei nostri frontalieri. Vediamo. In Svizzera niente lockdown, ma un maggiore impegno delle autorità cantonali a vigilare sulla salute dei lavoratori. Inoltre più alloggi gratuiti o convenzionati a canoni calmierati a disposizione dei frontalieri di Valbregaglia e Valposchiavo, evitando così il quotidiano rientro in Italia e il potenziale rischio di trasmissione del virus alle proprie famiglie. E' l'impegno assunto dal presidente del cantone dei Grigioni, Christian Ratgeb, nel confronto avuto con l'assessore regionale Massimo Sertori, dopo che nelle scorse settimane gli amministratori locali di Tiranese e Valchiavenna avevano sollecitato le autorità cantonali ad adottare misure di maggior tutela sanitaria nei confronti dei lavoratori italiani oltre confine, a partire dalla sospensione delle attività economiche non essenziali in Svizzera regolarmente operanti. Non è possibile adeguarci alle norme restrittive adottate in Italia per prevenire il coronavirus, ha precisato il cantone dei Grigioni, perché l'emanazione di queste misure, spiega Ratgeb, è di competenza della Confederazione, dunque decide Berna. Ma le autorità di Coira si impegneranno a vigilare affinché le imprese adottino le adeguate misure di sicurezza per i lavoratori. Col presidente, dichiara Sertori, titolare della delega ai rapporti con la Confederazione Elvetica, abbiamo assunto l'impegno reciproco che qualora emergessero problemi di qualsiasi natura riguardanti i lavoratori frontalieri o i datori di lavoro svizzeri, ci sentiremo tempestivamente per risolvere le problematiche comuni. Nell'incontro abbiamo convenuto che è assolutamente indispensabile un comportamento corretto da parte di tutte le aziende e qualora vi fossero comportamenti non coerenti saranno immediatamente segnalati. Priorità assoluta dunque sia per il governo Lombardo che per quello dei Grigioni, la tutela della popolazione e dei lavoratori frontalieri, una risorsa per i nostri territori. Valutata anche l'ipotesi di misurare la temperatura corporea ai frontalieri in uscita sul territorio italiano, ma con la collaborazione anche di personale svizzero. Il presidente della provincia si è già incaricato di verificarne la fattibilità presso il prefetto e il comandante provinciale della Guardia di Finanza. Moretti, che aveva sottoscritto le richieste avanzate dagli enti locali di Valtellina e Valchiavenna, si dichiara soddisfatto dell'esito dell'incontro e accoglie con piacere l'apertura della Svizzera alle istanze formulate nei giorni scorsi e la disponibilità a collaborare. Nelle case di riposo dove si vive il dramma dei tanti decessi collegati al coronavirus, da più di un mese le visite agli ospiti sono state sospese. Una situazione di isolamento dettata dalla necessità di proteggerli, dal rischio di contagio, che accresce il disagio morale e psicologico degli anziani privati della possibilità di incontrare i loro cari e di riceverne conforto. In aiuto di questa fascia fragile della popolazione, oggi più che mai esposta ad una condizione di vulnerabilità, la Banca Popolare di Sondra ha deciso di dotare tutte le 20 RSA della provincia di funzionali tablet che permettano di mantenere attraverso lo schermo il contatto visivo e il dialogo con i propri familiari. Proprio in una situazione così critica, nota l'Istituto di Piazza Garibaldi, la connessione virtuale evidenzia la sua validità al fine di garantire la continuità dei rapporti sociali a distanza. La videochiamata da tablet dal figlio o dal nipote diventa per gli anziani un prezioso strumento che stempera la loro solitudine. Un'iniziativa di forte valenza sociale, un gesto di vicinanza e solidarietà che BPS ha voluto realizzare con l'intento di agevolare ospiti e operatori delle strutture nella comunicazione con il mondo esterno. La Valchiavenna programma il turismo del dopo coronavirus, tante le iniziative a sostegno delle famiglie ma anche di chi ama la natura e tra le proposte innovative spuntano i Valchiavenna Bond. Il turismo in Valchiavenna come nel resto d'Italia è fermo ma non nella programmazione per farsi trovare pronti una volta finita l'emergenza. Tante le proposte innovative condivise con enti e operatori allo studio del Consorzio Turistico diretto da Filippo Pighetti al lavoro per analizzare le nuove esigenze dei vacanzieri futuri e pianificare pacchetti su misura che vedono protagonista il territorio con le sue bellezze e i suoi prodotti. Abbiamo iniziato a studiare e pianificare quelli che sono dei pacchetti short soprattutto legati al mondo outdoor, al trekking, alla bike dei pacchetti turistici rivolti al nostro mercato di prossimità che avrà poche ferie e poco tempo e quindi ci raggiungerà soprattutto nei fine settimana aprirà le seconde case e allora abbiamo pensato a tutta una serie di offerte soprattutto legate alla famiglia vogliamo premiare le famiglie di bambini che in queste settimane sono stati sacrificati abbiamo pensato a delle proposte green per incentivare soprattutto una fruizione personale del territorio al massimo relegato all'ambito familiare con l'idea dei picnic fruibili, consumabili in quelli che sono i posti più belli e più green della nostra valle state facendo delle valutazioni anche sul Val Chiarella Bond? Sì, vogliamo intraprendere nei prossimi giorni delle azioni a sostegno dei nostri associati di tutte le aziende del mondo oreca che sono quelle più duramente colpite da questa crisi sanitaria ma anche economica prima di tutto lancieremo nei prossimi giorni grazie al supporto di altri privati l'iniziativa Val Chiavenna Bond che rientra nell'ambito delle iniziative Io resto in Val Chiavenna e sono degli chef o dining bond cioè dei voucher che verranno acquistati anticipatamente dai clienti, dai fruitori di bar, ristoranti, crotti quindi hotel e daranno diritto di fruire agli stessi non appena saranno riaperte le attività in questo modo l'acquirente potrà godere di un vantaggio economico in termini di sconti o maggiori servizi al momento della fruizione mentre l'esercente, il pubblico esercizio potrà venire in possesso subito di una liquidità che gli consentirà di riprendere e riaprire molto più facilmente Dalle proiezioni 64% degli italiani pensa ad una vacanza in Italia il 18% dei turisti finita l'emergenza punta a trascorrere le ferie in montagna e la Val Chiavenna si organizza per accoglierli al meglio Ci aspettiamo, come si diceva un turista profondamente cambiato che avrà esigenze e percezioni diverse e crediamo proprio che la nostra valle la Val Chiavenna ed in generale quindi la provincia di Sondro possa rispondere pienamente a queste nuove esigenze Un uomo di 50 anni residente a Sondrio è stato denunciato dagli agenti della Questura per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale in particolare il valtellinese pregiudicato ieri pomeriggio ha aggredito gli agenti della squadra volante intervenuti presso l'area Carini di Sondrio su segnalazione di alcuni cittadini che evidenziavano un assembramento di persone comportamento vietato dall'enorme anticontagio i poliziotti intervenuti hanno multato i presenti tra i quali anche il cinquantenne che ha dato in escandescenze offendendo e aggredendo i poliziotti da qui la denuncia a piede libero del valtellinese Dalla festa pagana del carnevale a quella religiosa della Pasqua a quella civile del 25 aprile l'emergenza coronavirus ha stravolto il nostro modo collettivo di vivere ricorrenze di varia natura impedendo sfilate processioni e cortei in vista dell'anniversario della liberazione l'ampri scrive al prefetto nel rispetto delle restrizioni imposte dall'epidemia i comuni trovino il modo per celebrarlo Non dimentichiamoci del 25 aprile tra sacro e profano l'emergenza coronavirus ovviamente impedisce di celebrare con la dovuta partecipazione collettiva momenti importanti per la comunità succede per i riti della Santa Pasqua e di qui a qualche settimana succederà anche per la ricorrenza del 75esimo anniversario della liberazione che non potrà essere celebrato con le tradizionali modalità oltretutto restrizioni a parte prefettura, forze dell'ordine, sindaci e quanti operano nelle amministrazioni locali sono talmente gravati di impegni che difficilmente troverebbero il tempo per organizzare in maniera adeguata le celebrazioni Ne siamo consapevoli scrive il presidente provinciale dell'ampi Egidio Mele in una lettera al prefetto ma ciò non significa che l'importanza ed il valore della ricorrenza possano essere ridimensionati o addirittura ignorati insomma propone l'Associazione Nazionale Partigiani troviamo il modo per non far passare sotto silenzio la festa a causa dell'emergenza nonostante tutto osserva Mele l'adeguata celebrazione del 25 aprile rappresenta un dovere per tutte le istituzioni repubblicane in questi momenti tragici più ancora che nella normalità i valori di cui la liberazione è stata portatrice confluiti nella nostra Costituzione diritto alla salute e doveri di solidarietà in particolare assumono importanza fondamentale e strategica per queste ragioni scrive Mele nella lettera alla massima autorità di governo sul territorio siamo a chiederle di verificare e se del caso sollecitare che il 25 aprile prossimo in tutti i comuni della nostra provincia si tengano appropriate cerimonie di celebrazione ovviamente compatibili con le attuali norme nazionali e regionali imposte dalla pandemia in atto il punto è proprio il come rinnovare la commemorazione di una data storica che quest'anno tra l'altro compie un traguardo simbolico ovvero i 75 anni senza possibilità diretta di partecipazione popolare siamo sicuri della sua sensibilità in proposito conclude la lettera al prefetto le siamo fin d'ora gratis scrive Lampi per un suo autorevole preventivo intervento a tal fine presso le amministrazioni locali la didattica a distanza non riguarda solo il mondo della scuola ma anche quello dell'impresa i corsi di Apilecco e Sondrio diventano online grazie all'utilizzo della piattaforma Goto Meeting opportunità è rivolta agli associati anche alle aziende esterne che vogliono partecipare a questa modalità tutti i corsi precisa l'associazione piccole e medie industrie presente anche in Valtellina con una sede a Morbegno sono certificati il servizio è apprezzato da centinaia d'aziende ci sono momenti in cui bisogna saper cambiare pelle trovare nuove soluzioni spiega il condirettore Apilecco e Sondrio Marco Piazza lo abbiamo fatto anche noi e così abbiamo trovato la modalità perfetta per continuare una delle attività più apprezzate della nostra struttura quella dei corsi di formazione avviati nel 2004 i temi abbracciano le aree gestionali linguistica internazionalizzazione informatica ambiente e sicurezza processi produttivi e soft skill comunicazione motivazionale problem solving per informazioni è possibile scrivere a formazione chiocciola api.lecco.it oppure telefonare allo 0341 28 28 22 giorno di Pasqua da ricordare a Torre di Santa Maria dove nonostante le misure di contrasto alla diffusione del coronavirus gli abitanti su iniziativa del Comune si sono scambiati gli auguri a distanza Pasqua con il sorriso nonostante le disposizioni anti-coronavirus a Torre di Santa Maria in Valmalenco dove la dinamica Carmen Gianotti assessore alle politiche sociali e volontariato e il sindaco Giovanni Gianotti domenica mattina hanno deciso di realizzare un video in paese nelle frazioni coinvolgendo gli abitanti che da balconi finestre e terrazze hanno rivolto il loro augurio per Pasqua obiettivo far sentire le persone costrette a stare in casa meno sole e strappare loro un sorriso stiamo attraversando un momento davvero difficile e impegnativo ma mai come in questo periodo il messaggio della Pasqua può essere vivo in mezzo a noi non ti voglio dire che la speranza non ci abbandoni mai auguri a tutta la popolazione a tutta la popolazione a tutta la madre a tutti gli anziani a tutti i giovani a tutti i giovani e che finisca presto andrà tutto bene siamo tutti tranquilli che andrà tutto bene forza teniamo duro e ne usciremo sempre più forti forza torre e forza Valmalenco ciao un caro saluto dai monti e buona Pasqua a tutti un bacione ciao torneremo sicuramente a vivere il nostro paese le vie del nostro paese a incontrarci e a fare tante cose belle tutti insieme uniti più di prima e forza torre andrà tutto bene se stiamo a casa nostra venite duro e restiamo a casa buona Pasqua a tutti ti auguri di buona Pasqua buona Pasqua ciao che sia una serena Pasqua per tutti nonostante tutto auguri state tutti bene e non si esce di casa mi raccomando eh insieme ce la faremo forza torre un pensiero va a tutte le persone che stanno vivendo questo momento in isolamento in solitudine cerchiamo tutti di aiutarle a volte abbastanza dalla telefonata per non farle sentire sole un abbraccio va anche a tutti quelli che hanno avuto l'ultima famiglia arriverà il momento di celebrare tutti esseri i nostri cari che ci hanno lasciato cerchiamo di tenere duro e di impegnarci ancora per qualche settimana forza torre siamo in chiusura prima dei saluti però come di consueto vi ricordo che potete seguire Teleunica anche su Youtube su Facebook su Twitter e sul nostro nuovo sito grazie di cuore per l'attenzione buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti